Tutti vorremmo poter sfuggire al passare del tempo, ma la realtà è che i nostri corpi invecchiano di giorno in giorno. È sicuro dire che con la possibile eccezione degli adolescenti, quasi tutti vogliono sembrare più giovani. Ecco perché spendiamo molti soldi per farci apparire più giovani. Ma mentre creme costose e procedure di bellezza possono migliorare il tuo aspetto, il miglior investimento sta nelle modifiche che apporti nella tua routine quotidiana che menzioniamo in questo video. Alcune persone sembrano molto più giovani di altre nonostante la loro età avanzata. Cosa riguarda? In questo video te lo mostreremo. Prima di emergerci, per favore dirci la tua età nella sezione commenti di questo video. Ti forniremo le ricette anti-invecchiamento per aiutarti a sembrare più giovane nei prossimi video. Quindi fare clic sul pulsante iscriviti e attivare la campanella di notifica accanto per non perdere i nostri prossimi video. Ora ti mostreremo 9 cattive abitudini quotidiane che ti invecchiano molto più velocemente senza che tu te ne accorga. Una recente ricerca conclude che uno stile di vita sedentario accelera il processo di invecchiamento biologico, mentre può aumentare i rischi di alcuni tumori, malattie cardiovascolari e può contribuire alla depressione. Una persona che vive uno stile di vita sedentario è spesso seduta o sdraiata per la maggior parte della giornata, mentre lavora e svolge attività quotidiane. Le persone che fanno più attività fisica hanno meno probabilità di sviluppare malattie e generalmente rimangono giovani più a lungo. Esercizio fisico regolare aumenta la circolazione che rende la pelle più sana e più giovane. Per Organizzazione Mondiale della Sanità si considera che il minimo di attività fisica dovrebbe essere 30 minuti al giorno di attività di intensità moderata, 5 volte a settimana o 20 minuti di alta intensità per 3 giorni alla settimana. 2. Dormire meno del necessario e sei sempre stanco. Se dormi di più, puoi sembrare più giovane, studi scientifici lo hanno confermato. Quindi è importante dormire a sufficienza, generalmente 8 ore. Durante il sonno viene rilasciato l'ormone della crescita che stimola la formazione di più tessuti nella pelle. Avere poco o nessun sonno riposante può farti invecchiare più velocemente, secondo uno studio pubblicato sulla rivista Sleep. Quindi iniziare a dormire 8 ore a notte e rimanere giovane più a lungo. 3. Bere oncolici quasi ogni giorno. Potresti aver sentito che un bicchiere di vino al giorno aiuta il sistema cardiovascolare. Può essere vero, ma se il tuo obiettivo è sembrare più giovane, Ancon non è il tuo alleato. La ricerca conferma che Ancon può avere un effetto negativo sulla capacità del corpo di sintetizzare il collagene portando a più rughe e cedimenti. Bere Ancon in eccesso rende anche la pelle disidratata che può portare a un aspetto meno giovanile. Se vuoi sembrare giovane, bere bevande ancoliche consapevolmente. 4. Fumo. Il fumo è dimostrato di essere dannoso per la salute. Non solo causa il cancro al pulmone e malattie cardiache, il fumo danneggia anche la pelle e può causare rughe premature che ti fanno sembrare più vecchio di quanto che seriamente. D'altra parte, il fumo gioca un ruolo importante nello sviluppo di condizioni associate all'età come osteoporosi, in diabete, la cataratta e le alterazioni della pelle. Quindi, se vuoi rimanere giovane, devi smettere di fumare. 5. Esporsi al sole e non usare la protezione. Godersi il sole fa bene a migliorare il proprio umore e assorbire la vitamina D, ma l'eccessiva esposizione al sole contribuisce a accelerazione dell'invecchiamento. Gli studi confermano che i danni del sole causano la perdita di collagene e elastina portando a rughe sulla pelle. Oltre a assorbire troppo sole ti farà sembrare più vecchio di te può causare il cancro della pelle. 6. Sentirsi troppo stressato. Uno dei fattori più pericolosi per la salute e l'invecchiamento è lo stress. Gli studi hanno concluso che lo stress può portare a un invecchiamento precoce. Lo stress frequente aumenta il livello di cortisolo, un ormone che provoca molti cambiamenti nel corpo e stimola danni ossidativi. 7. Mangiare troppi cibi trasformati. Nitrati e conservanti utilizzati nelle carni trasformate sono noti per essere pro-infiammatori poiché creano radicali liberi nel tuo corpo. Queste carni spesso contengono grassi saturi che invecchiano il cuore e la pelle. 8. Mantenere assunzione di carni trasformate per continuare a sembrare giovani. Cercare anche di consumare il meno possibile cibi trasformati e confezionati. La scelta di frutta, verdura, noci e alimenti biologici dovrebbe essere inclusa regolarmente e vedrai le differenze nella pelle e nella salute. 8. Cattiva postura nel camminare. Se si cammina con una postura curva come una persona anziana, si invecchia prontamente. Uno studio in biofeedback ha mostrato che, quando i partecipanti camminavano con una postura curva, si sentivano meno energici. Chinarsi spinge sui muscoli e tendini, causando tensioni e dolore. Inchinarsi estremo può portare al mandischiena cronico. Non c'è niente come il mandischiena cronico che può farti sentire anni o addirittura decenni più vecchio di quanto che sei realmente. Quindi, per sembrare più giovane, stare dritto. 9. Usare troppo in calore. È incredibile sedersi accanto a un camminetto in inverno. Tuttavia, sul riscaldamento della casa attraverso un camminetto o termostato può assorbire umidità dall'aria. Questo può portare alla secchezza e infiammazione della pelle, che nel tempo si trasformerà in rughe.